Abbiamo già detto che il nuoto ha un'importanza veramente forte sin da Anversa 1920, ma insomma nel 24 ancora di più. Arrivano una serie di personaggi straordinari, uno in particolare verrà ricordato per sempre, ancora una volta, non solo per l'impresa sportiva ma per chi sta per diventare. Del nuoto vi abbiamo parlato, i primi a fare la piscina sono gli inglesi che però ne fanno una lunga 100 metri e larga la metà. Vabbè comunque c'è una piscina e la piscina migliora le prestazioni, gli americani già avevano delle piscine da Esther Williams, erano avanti e i loro nuotatori sono straordinari e ce n'è uno che va un po' più forte degli altri e sarà il primo uomo al mondo a percorrere in acqua 100 metri in meno di un minuto. Il suo nome è John Weissmüller, che magari così non vi dice granché ma è Tarzan e infatti nel 1932 in Tarzan uomo scemmia invaderà il mondo in altro modo. Le olimpiadi del nuoto sono straordinarie e poi ci passeremo ancora per via di un paio di atlete, anzi una atleta che a mio modo di vedere divide gli uomini dai bambini e gli uomini dalle donne. Il luoto è straordinario, l'atletica è straordinaria ma comincia a diventare sempre più evidente che il tennis e il calcio diventano gli sport glamour per davvero. Questo è l'ultimo anno dove il comitato olimpico dice vabbè giocate voi del tennis anche se palesemente siete dei professionisti. Le grandi vincitrici di Wimbledon si fanno pagare addirittura in anticipo, da lì in poi il tennis fino all'era moderna verrà scartato.